Era il 13 luglio del 1924 quando si correva la prima edizione della Coppa Acerbo e oggi sabato 13 luglio si tengono le celebrazioni dell'anniversario un secolo del circuito di Pescara che riporta in città gran parte dei familiari dei piloti protagonisti delle gare. Sono stati accompagnati al monumento di Spoltore dove c'è stata l'inaugurazione della targa dei 100 anni del circuito di Pescara da parte delle autorità. I nomi di Fangio, Nuvolari, Mossa e altri campioni sono tornati ad affrontare le curve e le strade dello storico percorso di Formula 1 contemporaneamente partita dall'Aurum il Ferrari Tribut curato dal Ferrari Club Italia direttamente legato alla casa madre, le Rosse hanno ripercorso interamente il circuito passando anche da Cappelli sul Tavo e Montesilvano. Sempre l'Aurum ospita la mostra fotografica dedicata ai 100 anni della Coppa Cerbo curata dalla sovrintendenza e poi l'annullo filatelico con cartolina dedicata organizzato da poste italiane. Hanno partecipato poi gli eredi del fondatore della casa automobilistica Alfa Romeo che ancora oggi custodiscono il trofeo vinto da Enzo Ferrari. In serata lo spettacolo con i saluti istituzionali è la prima del cortometraggio scacco alla rondine girato proprio in occasione delle manifestazioni per il centenario organizzate dall'Old Motors Club con il contributo di Regioni Abruzzo e Comune di Pescara. Il presidente del Consiglio regionale Sospiri. La Coppa Cerbo è stata per molti decenni una delle gare automobilistiche più importanti del mondo. Io credo che abbia fortemente contribuito alla nascita tre anni dopo la prima edizione della Coppa Cerbo proprio della città di Pescara perché era diventato un evento che l'aveva ormai attenzionato su un livello internazionale. La prima Coppa Cerbo è stata vinta da Enzo Ferrari su Alfa Romeo. Era giusto sottolineare questo anniversario dei 100 anni con una serie di iniziative. Una riavocazione organizzata dalla Old Motors Fabio Di Pasquale. Sono giornate emozionanti per noi appassionati per aver visto ieri arrivare tutti i parenti dei piloti che sono stati gli eroi di questo triangolo magico come ci piace chiamarlo. Ieri ho ricevuto il figlio di Stirling Moss, il vincitore dell'unico gran premio che c'è stato qui a Pescara. Noi appassionati lo portiamo nel cuore. È arrivato il figlio di Fangio, è arrivato il cugino di Nuvolari, il nipote di Villoresi, di Biondetti, di Varzi. Ci sono tutti tornati a Pescara e con un briciolo di emozione mi sono trovato ad accoglierli tutti insieme. Abbiamo cenato ieri sera insieme al sindaco Carlo Masci e a diversi appassionati. È stato un momento davvero commovente. Siamo con il nipote di un grandissimo campione. Siamo con Francesco Giuseppe Nuvolari. Il cognome è tutto un programma. Nel 1932 Tazzo vinse con l'Alfa Romeo P3. Poi nel 1933 arrivò il secondo per problemi tecnici. Gli piaceva molto, soprattutto il paesaggio, il contrasto tra gli ulivi, il verde dei prati e il blu intenso del mare. Tra i discedenti è anche il figlio di Manuel Fangio. È molto emozionato di venire qui a Pescara, in Italia e soprattutto a Pescara, ed onorare il suo papà che è stato colui che ha fatto il record di velocità sul circuito, quindi sul nostro chilometro lanciato ad oltre 310 km orari.